Ehi tu! Benvenuto in ItzQ! È un'app! È un social! Che Itz è? ItzQ è l'unica app che funziona tramite tag e diventa social. Puoi sfoggiarlo, tag. Attaccarlo, tag. Indossarlo, tag. Proprio come faccio io, tag. Ma come funziona? Inquadro il tag, sono il tuo tag. Lo configuro come pare a me, lo personalizzo come itzitzitz voglio e lo associo al mio tag. Oh scusate, ai miei tag. Uso ItzQ per socializzare. Io inquadro il suo tag. Lei inquadra il mio tag. Chatto, commento, interagisco e poi magari sì. Tag. Uso ItzQ per fare business. Condivido le mie skill e la mia business card. Tag. E se non hai ancora un tag ufficiale? Scaricalo dall'app di ItzQ e stampane uno tutto tuo. Pinsalo sulla bacheca dell'università. Attaccalo sulla vetrina del tuo negozio. Afficcicalo dentro l'auto. Allora, che aspetti? Entra in ItzQ. ItzQ è il nuovo social tag creativo, divertente, utile e intelligente. Scarica ItzQ. Oh, aspetta, hai detto intelligente. ItzQ si può usare anche in modalità safe. Inserisco il mio tag nel mio portafogli con le mie informazioni personali. E poi lo faccio indossare al mio nipotino, così non lo perdo in spiaggia. Lo metto sulla targhetta del mio caso. Ehi, Fido, vieni qui che ci facciamo un giro. Tag. Non sai dove trovare i tag ufficiali di ItzQ. Visita ItzQapp.com. Mi sono taggato addosso!